Sto con Franceschini perché guarda al futuro. Sto con Franceschini perché ha avuto un gran coraggio. Io sto con Franceschini perché valorizza la partecipazione di noi donne. Io sto con Franceschini perché è una persona seria e ispira fiducia. Io voto Franceschini perché è troppo simpatico. Io sto con Dario perché ha traghettato il partito in un momento molto difficile. Voto Dario perché vorrei un partito che abbia più coraggio. Io scelgo Franceschini perché ha già dimostrato di essere un bravo segretario e non voglio cambiare dieci segretari in nove anni. Sto con Dario Franceschini perché secondo me riesce a mettere insieme storie e culture diverse. Sto con Franceschini perché quando abbiamo sciolto il partito dei DS, lui era al nostro congresso, ha fatto un intervento e ha dimostrato di credere veramente nella nascita di questo nuovo soggetto e lo sta dimostrando tutt'ora. Anch'io sto con Franceschini per dare continuità al sogno cominciato due anni fa. Ringiovanimento perché è importante anche questo, che dobbiamo anche scolarsi di dosso, anche certe incrostazioni piano piano. Questo mi dà fiducia. Confido nella promessa che ha fatto di una segreteria che sarà capace poi di crescere la futura classe dirigente del partito perché non ne possiamo più di vedere sempre i soliti candidati. Mi ha bisogno di una nuova classe politica. Mi sta a voto per Franceschini perché l'agli dei ceri e quante scorse capisce bene quel che dice. Anche noi stiamo con Dario. Anche noi stiamo con Dario.